Ci sono volute 48 ore di polemiche per superare gli ostacoli della burocrazia, il rischio di uno scaricabarile e finalmente trovare una soluzione tampone. Dopo il focolaio esploso alla mensa dei poveri di Avellino, da ieri sera i contagiati sono stati trasferiti in altre strutture. Accogliendo l'appello della Caritas, l'ASL si è attivata per il trasferimento dei positivi bisognosi di cure a bassa intensità verso il Loreto Mare di Napoli. Altre tre persone invece sono state trasferite all'ospedale Moscati di Avellino, alcune bisognose di cure per altre patologie non Covid. Un interrogativo resta, che fine ha fatto il Covid Residence di Montella, la cui apertura è stata annunciata a fine gennaio. Sulla struttura si è consumato un teatrino dell'assurdo, tra comune e comunità monastica da anni si sta consumando un braccio di ferro sulla proprietà. I frati non si sono mai tirati indietro nell'accoglienza, ma dopo la seconda ondata hanno preferito cambiare le serrature di quelle stanze in cui erano tornati a dormire quattro frati. Dopo le nuove richieste di utilizzo da parte dell'ASL, la sistemazione in un bed and breakfast per fare spazio ai malati pare che le serrature siano state di nuovo cambiate. Comunque sia andata, resta il dato, in sei da Avellino a Napoli per cure Covid, dopo la chiusura di ospedali in Irpinia per lavori, Vedi Solofra e gli annunci di aperture di Covid Center che a questo punto non accolgono né frati né malati, dando vita al secondo tempo del teatro dell'assurdo. Grazie a tutti.